Il Signore non si volta dall'altra parte davanti alle nostre necessità e si a volte sembra insensibile alle richieste di aiuto e permettere alla prova e robustire la nostra fede. Lo ha sottolineato Papa Francesco prima di guidare la recita dell'Angelus. Partendo dal Vangelo odierno che racconta la perseveranza di una donna cananea nell'invocare l'aiuto di Gesù in favore della figlia, il Pontefice ha rimarcato che questo esempio di fede incrollabile dovrebbe essere un stimolo per ciascuno di noi a non disperare quando siamo oppressi dalle dure prove della vita e questo episodio aggiunto ci ricorda anche la forza delle donne che sono capaci di ottenere cose grandi. Questo episodio evangelico ci aiuta a capire che tutti abbiamo bisogno di crescere nella fede e fortificare la nostra fiducia in Gesù. Egli può aiutarci a ritrovare la via, quando abbiamo smarrito la bussola del nostro cammino, quando la strada non appare più pianeggiante ma aspra e ardua, quando è faticoso essere fedeli ai nostri impegni. È importante alimentare ogni giorno la nostra fede con l'ascolto attento della parola di Dio, con la celebrazione dei sacramenti, con la preghiera personale come grido verso di Lui. Signore, aiutami! E con gli atteggiamenti concreti di carità verso il prossimo.